buonasera e lo sa no sa ci sente? oh perfetto buonasera salve salve prego prego eccoci qui che bello vedervi così numerosi nonostante il tempo che ci ha un po' colto la sprovvista stasera un po' si un po' si abbiamo appena finito di cenare molto molto fast siamo anche abbioccati esatto infatti sarà una una chiacchierata molto tranquilla molto chill in questa cornice veramente splendida stupenda devo dire quasi non è all'altezza di noi quasi però senza il quasi assolutamente no veramente mi piacciono quei figuri che tengono la la cornice bella ispirati chiaramente a noi assolutamente a livello di fisico da questo punto di vista più alle sagome secondo me però e perché siamo qui oggi riuniti perché questo bel signore ha scritto un libro ho scritto un libro incredibile ha scritto un libro sul cinema addirittura strano non l'avrei mai detto mi sarei aspettato una guida di cucina da te invece eccoci qui tutti quanti quindi in maniera molto semplice comincerò dalla domanda forse più banale ma necessaria quando si parla di un libro ovvero come nasce questo tuo libro ma allora guarda il libro nasce da un'idea un po' della casa editrice un po' mia nel senso che loro volevano fare qualcosa riguardante il cinema mi hanno chiesto se fossi disposto a farlo che hanno detto ci piacerebbe fare qualcosa vediamo cosa ci viene in mente perché comunque l'idea era di realizzare un testo riguardante il cinema allora è venuta fuori l'idea di provare a fare qualcosa che fosse diciamo quasi terapeutico in un certo senso e allora è venuta fuori da un brainstorming l'idea di realizzare un libro che fosse di consigli su film e serie da guardare in base all'umore del momento anche perché e questo credo che succeda anche a te cioè di solito a me la gente quando chiede un consiglio dice sempre guarda oggi mi sento così cosa mi guardo ed è la domanda credo che che mi fanno più spesso anche perché penso che conosciamo tutti molto bene la sensazione di aprire un servizio di streaming accendere la tv e stare a scrollare per mezz'ora senza però riuscire a scegliere qualcosa sì ma guarda che sembra sembra una una sciocchezza però in realtà io ho notato che c'è tanta gente che mi scrive guarda sono tipo mezz'ora che sta cercando di scegliere il film che poi secondo me a un certo punto uno colto per sfinimento dice guardo la prima cosa che mi capita io forse per il fatto che lo faccio per il fatto che lo faccio il lavoro come penso anche te abbia la stessa la stessa sensazione so sempre cosa so sempre cosa andare a guardare è difficile che io apri un catalogo di una piattaforma e non sappia cosa guardare per film e serie tv sì però per esempio già su altre cose tipo youtube per me la cosa migliore di youtube è allungare continuamente la lista guarda più tardi così almeno non ci devo pensare è proprio dire vedi qualcosa che ti interessa esatto però sai per youtube io lo uso più che altro per lo svago non so magari ho dieci minuti liberi dieci minuti di pausa dal lavoro mi guardo qualcosa su youtube o su tiktok solitamente però le due cose coincidono esatto come tiktok tiktok è chiaramente un'operazione d'accesso è proprio chiarissimo scusate se ci esprimiamo in questi termini in questo luogo fantastico con questo lampadario molto poco greve penso che se entrambi dovessimo fare un sondaggio nel nostro pubblico ci guardano quando vanno a dormire di sottofondo o quando quando mangiano o quando sono in bagno poi c'è un 1% che forse effettivamente si mette lì e dice ah adesso mi guardo il video l'uno c'è un sacco di gente che mi stia guarda non andavo di corpo ma da quando guardo i tuoi video è una cosa che guarda che secondo me non lo metto in dubbio sì 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 no però però quindi col fatto che comunque noi lo facciamo di lavoro quindi non abbiamo magari la problematica di sapere cosa guardare cosa non guardare e c'è venuto in mente questa cosa di dire vabbè visto che io comunque ho una certa decisione nel guardare le cose dico può essere anche un modo per avere un'alternativa all'algoritmo io non voglio demonizzare l'algoritmo nelle piattaforme di streaming perché quello no perché comunque può essere utile cioè tu magari finisci di guardare un film o una serie e ti viene fuori il guarda adesso qualcosa che in base alle tue preferenze potrebbe andare bene lo guardi al 50% di possibilità che ti piaccia oppure che infatti io quando alla fine me lo chiede dopo ho visto qualcosa che mi piace e ti chiede se ti è piaciuto io lo faccio perché come dico spesso bisogna anche un po' addestrare il nostro algoritmo sì sì che è la stessa ragione per cui per esempio quando voglio guardare quando su o in tv o magari su youtube voglio guardare qualcosa che non mi interessa qualcosa di brutto per curiosità vado in modalità incognito io la modalità incognito la guardo per non rovinarmi l'algoritmo è astuta questa cosa è molto importante io ti dico a me dell'algoritmo di netflix ad esempio non frega niente perché talmente non lo uso che non sa neanche lui bene cosa consigliarmi alla fine quindi no perché so già più o meno quello che mi va di guardare è difficile che io vaghi quindi l'idea era proprio quella di dire troviamo un'alternativa anche perché io sono molto dell'idea che il consiglio umano non il mio ma in generale valga sempre qualcosa perché io comunque sono cresciuto in un ambiente un po' particolare davanti avevo il cinema e dietro proprio dietro casa avevo invece la videoteca quindi quando andavi in videoteca soprattutto quando usciva il film quello nuovo tipo non mi ricordo con matrix andai e dissi ce l'hai matrix il videotecaro mi guardò ridendo il sabato pomeriggio alle 3 ma secondo te c'è un matrix che è uscito ieri ovviamente non ce l'ho e allora magari chiedevi vabbè c'hai qualcosa da consigliarmi e quella volta fu il tredicesimo piano e che ero troppo piccolo per poter per poter infatti torneri e dici ma che cazzo mi hai consigliato ah il tredicesimo piano che è un film che non so in quanti conoscono che in realtà ha delle corrispondenze con matrix ma poi no che in realtà è un film carinissimo però diciamo che se lo vedi quando hai 11 anni non ci capisci una mazza però anche quando magari ti consigliava qualcosa che non ti piaceva particolarmente era bello perché scoprivi comunque qualcosa di nuovo quindi io volevo riportare un po' in auge con questo libro quello che che un po' si è perso perché comunque alla fine il consiglio chiede l'algoritmo oppure vai guardare su google se non hai magari l'amico cinefilo qualcuno comunque che magari si guarda tanti film non hai la persona che ti consiglia quindi funge un po' anche da quello poi il fatto che sia in base all'umore è perché effettivamente io nelle varie sezioni ho messo quei film o quelle serie che io di solito guardo o a cui penso quando mi sento in quel modo io ho scelto proprio quelle quindi la scelta è stata più cioè interamente basata sulle tue preferenze o anche un cercare di prendere magari gli esponenti maggiori di quel genere anche allora è un po' un po' perché comunque questo è un libro che nasce sicuramente anche per chi mi segue però in realtà è pensato per raggiungere un pubblico anche più ampio cioè nel senso ci sono già un po' di persone che mi hanno scritto dicendo guarda sono andato a casa del mio nonno che ovviamente non guarda youtube e c'è nel tuo libro ma perché c'è questo libro e erano consigli sul cibo non so mai cosa guardare me lo sono preso quindi c'è anche gente che magari non è capitato anche di altre persone che mi dicessero che gente che non sa chi sono se l'è comprato quindi l'idea era quella di magari mettere film rappresentativi film che hanno magari fatto la storia nel loro genere quindi come dicevi prima film che insomma hanno una certa valenza ma anche magari film e serie che in realtà non sono capolavori ma stavano molto bene in quella sezione cioè ho messo anche per dire c'era nella sezione se non sbaglio quella del disgusto della repugnanza c'era avevo messo Basket Case che non è un film particolarmente famoso però è un piccolo cult degli anni 80 girato con un elastico e una vigorsol cioè c'è girovoce che costò tipo 3000 dollari una roba del genere si era era fatto veramente con poco però è un film che per quella sezione secondo me ci stava e qui ho cercato di far conoscere anche quelle cose che magari uno non si ricorda più non ha mai sentito cioè l'idea è che se uno è cinefilo trova anche finché conosce il 100% però l'idea è anche che magari cioè non è tanto un cosa guardo per la prima volta cioè magari sei triste vuoi non so vuoi mantenere quella malinconia perché ci può stare oppure vuoi uscire dalla tristezza ci sono i consigli magari c'è un film o una serie che hai già visto e conosci bene però pensi però sai che in effetti in questo momento me la riguardere volentieri cioè anche quello non è solo non sono solo consigli per forza nuovi guarda una curiosità anche mia è qual è stato il tuo processo creativo di tutto ciò nel senso dopo che hai scelto un film cosa facevi dicevi ok me lo vado a rivedere devo fare devo stilarmelo me lo ricordo talmente bene che posso scrivere tutto devo andare a cercarmi le informazioni allora dipende nel senso che ce n'erano alcuni tipo ad esempio ce n'era uno bellissimo che però non guardavo da un po' di tempo ed era un film talmente enorme che ho pensato devo riguardarmelo non dico quelle perché così a meno non faccio spoiler perché insomma sono 160 se inizio a dire a fare la show di natura di titoli non è neanche bello però quello me lo sono riguardato e è capitato così anche per altri altri invece che magari ricordavo piuttosto bene anche se non li guardavo da un po' li ho proprio scritti così alla buona però ci ho messo tanto a farlo perché il punto è inizialmente l'idea era lo si fa in qualche mese figurati cosa ci vuole tanto li ho scelti io i film so bene poi mi sono reso conto dopo qualche mese che non era così semplice come sembrava perché comunque quando ne facevo tanti erano massimo 8-9 non sono mai riuscito ad arrivare a 10 in un giorno ma si parlava di tante ore e e quindi la prima scadenza l'avevo bucata perché era un classico no no ma lì fui io scemo perché non mi resi conto che proprio col senno di poi ho detto ma come ho potuto pensare davvero di farlo in così poco tempo la scadenza successiva invece l'ho l'ho rispettata peraltro con qualche giorno di anticipo cosa nuovissima per me e ricordo che quando ho finito ho pianto nel senso che era era talmente perché era talmente una cosa che stava ingombrando ma non in senso negativo nel senso che comunque scrivevo il libro però avevo anche il canale portato avanti tutti i vari impegni quindi non è che ho potuto dire per qualche mese mi fermo e scrivo per cui a un certo punto stava diventando talmente una cosa anche quotidiana che quando ho finito proprio dalla tensione tipo ho pianto poi tipo il giorno dopo ho pensato ma oggi cosa faccio cioè mi sembrava strano non dovermi mettere davanti al computer a scrivere era una sensazione strana cioè la mia vita era diventata quella ormai sfondi la porta aperta ti capisco benissimo io ricordo ancora quando ho avuto il mio primo romanzo che erano tipo le 5 del mattino ma non perché avessi una deadline da rispettare solo che ho detto lo voglio finire quindi ho tirato dritto diciamo un po' soddisfazione un po' come hai detto tu liberazione perché comunque è anche impegnativo come sempre però poi ti manca cioè a me ha mancato per un po' per qualche giorno dicevo cavolo non mi sembra vero però allo stesso tempo mi sembrava di avere delle giornate lunghissime ci pensavi prima di andare a letto perché per esempio io quando sono in periodo di scrittura la notte faccio fatica a pensare perché ovviamente di giorno c'ho sonno la notte c'ho il cervello che si attiva perché funziona male come tutti e quindi io non riesco ad aumentare perché penso alle cose e poi mi devo alzare prendere il telefono e scrivermi gli appunti per non scordarmi il giorno dopo considera che molto spesso andavo letto dopo aver scritto quindi assolutamente sì poi magari mi svegliavo e dicevo cavolo devo scrivere quindi è stato un po' un chiodo fisso per parecchio tempo e ci ho dato tanto giù nelle ultime settimane infatti tra l'altro era stato verso fino a ottobre che c'era Lucca di mezzo ho finito e tipo due giorni dopo sono andato a Lucca che c'era era proprio era stato anche bello perché ho detto vado a Lucca così con la consapevolezza che era tutto finito e anche quello ha aiutato perché così o meno mi sono staccato dalla solita routine e mi sono un attimo riabituato capito perché se fossi rimasto a casa troppi giorni secondo me tipo a un certo punto mi mettevo a scrivere anche cose a caso pur di scrivere sì perché ma perché veramente quando tu per mesi imposti una tua routine intorno a qualcosa e quel qualcosa viene a mancare cioè l'essere umano è fatto così si adatta quindi gli ultimi mesi sembrano tipo tutta la tua vita non ti ricordi più come era prima quindi io facevo una fatica a non mettermi a scrivere per quanto fossi comunque contento poi la soddisfazione quando quando l'ho tenuto in mano per la prima volta questo libro è stato è stato molto bello perché ho detto cavolo anche quando mi ha mandato la copia digitale per farmi vedere come era venuto a livello di di grafica di impostazione e lì era diventato vero non è diventato vero finché non l'ho visto capito ti colpisce in un modo diverso quando capisci che qualcosa di concreto ed esiste perché tu vedi il foglio di word o comunque del programma che stai usando quindi non hai la percezione neanche bene di quanto è scritto vedi il cursore che ci mette un po' a toccare il fondo ok però vederlo impaginato è un'altra cosa cioè vederlo impaginato è una cosa un po' diversa assolutamente e guarda in realtà volevo anche un po' ritornare su quello che parlavamo prima perché un po' mi affascinavano questo concetto dell'algoritmo che alla fine è centrale alla stessa idea del libro dare un'alternativa all'algoritmo anche perché ci pensavo mentre venivo qua sapendo che avremmo toccato certi argomenti però in effetti moltissimo di quello che facciamo senza che neanche ce ne rendiamo conto è dettato dall'algoritmo cioè nessuno di voi sarebbe qui probabilmente non fosse per l'algoritmo che ci ha fatti scoprire interagire e tutto quanto io non avrei la mia ragazza non fosse per l'algoritmo quindi grazie no però effettivamente è vero cioè ormai gli algoritmi perché il punto è che la nostra vita dipende dalla tecnologia e tutto il comparto tecnologico più o meno è dettato dagli algoritmi ed effettivamente noi in quanto content creator dipendiamo veramente tanto dall'algoritmo perché comunque i nostri contenuti sono di fatto regolati da un algoritmo ma anche ma non solo su youtube anche su instagram su tutte le piattaforme tiktok quindi è una cosa bella però secondo me non bisognerebbe cioè il punto è non farsi sopraffare come tutte le cose cioè il problema è che cioè ma con questo libro ma come non solo con questo libro in generale con questo tipo di di letteratura con questo tipo comunque di progetti che può essere mio come possono essere anche altri secondo me si cerca di riportare un attimo con i piani per terra perché tipo io non oso immaginare cosa potrebbe accadere se tipo domani all'improvviso si spegne internet per due ore e tu immagina oggi è andato oggi è andato in down instagram due ore ed ero nel panico ma stavo guidando per fortuna se no impazzivo anch'io allora io devo pubblicare un video mi sono raffiato è classico però per dire che sì assolutamente sono d'accordo con te anche sul concetto che hai detto tu di ritornare un po' con i piedi per terra ma minimo anche secondo me cioè poi come penso io io l'ho sempre guardata così sull'esperienza da scrittore solo a scrivere libri che alla fine la soddisfazione più grande è anche questa cioè incontrare le persone e anche avere una scusa per incontrare le persone per discutere della stessa cosa delle stesse passioni che ci accomunano infatti da questo punto di vista è veramente fantastico per rompere un po' quella routine e uscire un po' da quell'algoritmo assolutamente poi il motivo per cui il 90% dei creator ha iniziato a fare questo mestiere che all'epoca magari non si sapeva che potrebbe essere un mestiere era proprio il trovare persone con cui discutere virtualmente poi ovviamente questi eventi sono bellissimi perché puoi vedere cioè le persone che di solito ti scrivono da dietro uno schermo sono lì gli puoi dare gli puoi assegnare una faccia a ogni nickname c'è qualcuno venuto da Padova era serio allora scusatemi qualcuno mi aveva scritto perché ho fatto una serie dicendo per chi è di Torino e dintorno mi ho detto ma che Torino e dintorno noi veniamo da Padova e io ho detto spero non fosse serio a Roma c'era una persona di Rovigo quindi in realtà si vede che potevano solo quel giorno lì tra l'altro sai che penso di l'hai nominato tu adesso ma penso di non avertelo mai chiesto effettivamente del perché come e perché hai cominciato a fare video su YouTube allora questa è una cosa un po' strana perché c'era un mio amico che mi disse facciamo video su YouTube e io iniziai con questo canale insieme a lui che si chiamava Mar di Matt cioè non so neanche io perché ce li avevo quel nome era una cosa una cosa strana ah sì perché eravamo in tre inizialmente ed era erano le iniziali tipo Marco uno che chiamavamo Dino che si chiama Andrea perché si chiama Di Nardo quindi Dino e poi Matt Mattia poi il terzo non fece mai video con noi perché ebbe un blocco sì sì ebbe un blocco e facevamo video io definirei comici è difficile perché erano noi che commentavamo le notizie del giorno in maniera comica teoricamente però per l'epoca funzionava nel senso che comunque era il 2009 avevamo fatto anche un video mi ricordo che aveva tipo boh due milioni di visualizzazioni sì sì era diventato virale avevamo comunque 3.000 iscritti che per l'epoca no che per l'epoca che anno era più o meno era il 2009 nel 2009 ne avevamo un migliaio però comunque fai conto che in quell'epoca c'era il concorso dei 3.000 iscritti di Yotobi 3.000 quindi proprio all'epoca proprio c'erano alcuni canali che ne avevano tipo qui forse WillWash ne aveva 16.000 allora 16.000 erano veramente tantissimi cioè non non esisteva l'idea di avere tipo 50.000 iscritti poi milioni come alcuni all'epoca non esisteva proprio il concetto delle milionate di iscritti in Italia non avevano scoperto che potevano monetizzare sui bambini e beh ancora no poi dopo sì 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 non c'era ancora Baby Shark non mi fate causa non mi fate causa per favore no perché so che e quindi e quindi all'epoca facevamo questi video e un giorno mia madre mi disse scusa ma a te che piace il cinema perché non parli di cinema mi ha detto boh mi ha detto non so perché non c'era era proprio una roba che dici ma si boh ma interessa allora mi rimase in testa questa cosa andai a guardare chi parlava di cinema in Italia a parte gli otobi che però parlava dei film brutti allora lui chiamava i films quality non c'era nessuno che parlava dei film in uscita in maniera seria ho detto boh provo a farlo io e ho avuto questa botta di fortuna incredibile di essere il primo perché non c'era nessuno che lo faceva in quel modo lì continuativo e boh da lì ho iniziato a prenderci gusto e non mi sono più fermato però sì è nata così è nata proprio per caso stessa identifica sì io anche ma volevo ricorrigarmi a quello che dicevi tu prima sul io ho cominciato perché proprio per il mio desiderio di parlare di quello che mi piaceva con gli altri sì sì ovviamente c'era anche quello perché non avevo non conoscevo molte persone nella vita vera cioè nelle persone che frequentavo a scuola perché quando ho cominciato io ero ancora al liceo che condividesse la stessa passione per il fantasy per tutte queste saghe libri film le serie tv anche perché all'epoca ancora le serie tv stavano cominciando ad essere molto più cioè la cultura nerd non esisteva ancora così come esiste oggi era una cultura nerd molto più all'epoca il termine nerd era ancora associato all'essere sfigati non era una moda come adesso la cultura geek è iniziata con The Big Bang Theory è iniziata secondo me con The Big Bang Theory e anche con come dire il fatto nel momento in cui i servizi di streaming sono diventati molto più accessibili per tutti quindi è diventato molto più nella norma sì magari passare tutta la giornata a guardare serie tv perché prima era più difficile perché o te li guardavi in tv o ti compravi dvd che ti veniva a costare o andavi di pirateria però anche quello secondo me è stata più la pirateria iniziare questa wave nel senso che cioè io mi dico quando ancora chi si ricorda Megavideo non so quanti pace all'anima sua Megavideo fu una io mi ricordo era fantastico perché tu dovevi praticamente ogni 72 minuti dovevi aspettare 54 minuti o resettare il modem il router che funzionava a volte ma non sempre no vabbè sempre funzionava a me c'erano delle volte che non funzionava non so come mai boh non so che tipo di modem avessi però era stato più quello perché la pirateria aveva contribuito a diffondere un sacco di perché poi la cosa che adesso è un po' meno magari succede un po' di meno ma succede ancora è che all'epoca le serie da noi arrivavano veramente con mesi o anni di ritardo capita ancora ad esempio l'altro giorno è uscito su Disney Plus lo special di Halloween di quattro puntate dell'American Horror Stories a febbraio ah come To Bear che non è stato successo continua ad arrivare un anno dopo arriva un sacco di tempo dopo non si è capito come mai tipo tre quattro mesi dopo boh quindi ce l'hanno un po' sta roba qua per cui all'epoca la pirateria serviva anche per recuperare ciò che non arrivava in Italia infatti poi si sono svegliati e hanno iniziato a far arrivare un po' prima le serie soprattutto sulle reti magari private come Sky cercavano di far arrivare un po' prima perché capivano che la gente era interessata ma infatti guarda io sono anche un po' dell'idea che per esempio mi viene da pensare al successo che ha avuto Game of Thrones secondo me il fatto per esempio che fosse stata una delle prime grandi serie che era facilmente fruibile su Sky ha contribuito un sacco anche Lost sì anche Lost andava su Sky e poi sulla Rai sulla Rai esatto mi ricordo sulla Rai ovviamente qualche mese dopo però ricordo che quando Lost esplose con la seconda stagione era la seconda stagione fu quella proprio perché la prima cioè nella pausa tra la prima e la seconda moltissima gente iniziò a guardarsi la prima perché la prima partì in sordina e poi esplose per cui quando arrivammo la quarta stagione era diventato già un fenomeno in Italia io mi ricordo che si guardava su Sky con gli amici e era tipo una roba religiosa cioè si facevano i gruppi di divisione con le persone io mi ricordo che una volta facciamo questa visione del finale vestiti da naufraghi sì sì una roba da malati di mente però fu poi si iniziarono a fare le primissime teorie c'erano dei miei amici che dicevano ma guarda secondo me alla fine è tutto un sogno che cazzo ti prego no però capito ed era comunque era tipo il 2010 era sembra una vita fa se ci pensi sì sì anche soprattutto per come tutto è cambiato tutto si è evoluto in maniera massiccia come dicevo a partire dal dal concetto stesso di del nerd che è diventato molto più sai io guarda io l'ho visto su mia sorella questa cosa mia sorella ha 5 anni meno di me e l'ho notato perché lei non era mai stata particolarmente interessata a tutta questa cultura alle serie tv a film però ad una certa quando Netflix era diventato più popolare lei cominciava a guardarsi certe serie perché c'erano tanti suoi amici che lo guardavano c'erano tante persone su internet che lo guardavano quindi lei non so non so se era realmente interessata la fomo esatto però si sentiva tagliata fuori e penso che questo abbia influito su moltissime persone in presa diretta l'ho visto tantissimo nel periodo Game of Thrones per esempio che se tu non lo guardavi eri tagliato fuori da qualsiasi discussione a me capitò una cosa assurda che non mi è mai più capitata con nessun'altra serie ero al ristorante ero all'Uknit a mangiare sushi con un amico stavamo parlando del trono di spade e il cameriere dice scusate potete evitare che non ho ancora visto la puntata non mi era mai mai successa una roba del genere mai quindi sì e poi la fomo che è l'ansia di sentirsi escluso di perdersi le cose forse ormai controlla le nostre vite molto più dell'algoritmo nel senso che ormai ci sono talmente tante cose da vedere da fare da ascoltare da leggere che davvero hai paura di perderti un pezzo ma a me mette ansia cioè nel senso non so se è una cosa che fate anche voi però ogni tanto dico devo recuperarmi 47 serie tv mi riguardo quella che ho già visto 30 volte perché non ho voglia non ho voglia di mettermi mette l'ansia quella I met your mother esatto ho finito tipo il quarantesimo rewatch l'altro giorno fai conto quindi ma perché sai cosa Scrubs I met your mother sono serie che si guardano io le guardo quando pranzo cioè se io pranzo e ho mezz'oretta non mi metto a guardare qualcosa cioè guardo qualcosa che posso vedere distrattamente non devo stare attento io di solito serie e film li guardo la sera è difficile che li guardi pomeriggio a meno che non sia weekend anche perché ci va qualcosa noi abbiamo finito ora di vedere The Crown che lo guardavamo a pranzo quello che guardarti un'ora di puntata a pranzo è quello capito perché se tu perché poi una cosa che non sopporto allora parliamo un secondo di questo se adesso ti ti introduco l'argomento allora ognuno è libero di fare quello che vuole ognuno può guardare le cose come vuole assolutamente può ma ma io una cosa che tipo cioè mi è come mi sento come se mi amputassero un arto è quando tipo sto guardando un film e magari tipo devo interrompere per uscire cioè per me è un sacrilegio quando io sento gente che dice guarda ho visto negli ultimi giorni chineso che l'ho visto in tre o quattro volte ti giuro ci sta sono tre ore e mezza dei film io lo capisco loro ridono perché l'hanno fatto io lo so no ah ok vabbè ma ci sta perché non tutti possono avere il tempo però tipo quelli che oppure quelli che dicono si guardo ho guardato questa serie per far prima l'ho guardata sul telefono a 1.5 per ma in che senso io ho scoperto che c'è questa pratica di alcune persone per cui si guardano le serie e film a 2 per ma come chi è che lo fa tanto lo so voi non volete alzare la mano perché vi vergognate ma qui non si giudica siate onesti c'è qualcuno che lo fa 1.5 1.2 qualcuno sì dai qualcuno sì secondo me sì però scherzi a parte ognuno può fare quello che vuole però questo ti fa capire quanto l'esigenza di oggi sia il cercare di guardare tutto il più rapidamente possibile che è un po' quello che vediamo con anche tiktok i reel ed è il paradosso della nostra epoca non ho tempo di guardarmi un video lungo di mezz'ora 40 minuti ma ho tempo di guardare per due ore video di 10 secondi e questa cosa è un po' strana però ci sta è lo stesso ragionamento di quando uno dice non ho voglia di andare a vedermi un film di tre ore al cinema però poi stai sei ore a farti un'intera stagione in binge watching però sai cosa è effettivamente diverso perché secondo me la serie è vero che occupi anche più tempo per guardarla però ti dà l'impressione di star guardando più roba perché è più lunga perché dici allora se posso scegliere tra guardare in un giorno sei ore di serie a casa in poltrona o uscire guardare i film di tre ore preferisco stare in poltrona guardamene sei ripeto ognuno può fare quello che vuole io capisco anche che guardarsi un film di tre ore e mezza come chi deve fare al mondo non è una cosa proprio semplicissima soprattutto in sala non tutti avevano il tempo adesso è super in video e anche lì magari non tutti hanno tre ore e mezza intere secche da dedicare non è detto che uno ce le abbia cioè noi le abbiamo perché è il nostro lavoro quindi tu il tempo di andare a vedere Dune l'hai avuto perché sapete che dovevi farci un video che è uscito poco fa tra l'altro guardatelo dopo ma a parte quello un po' di spam però il discorso è quello capito magari altri che fanno lavori tradizionali d'ufficio qualunque altro lavoro magari dopo otto ore di lavoro non avevo tutta sta voglia di chiudersi in un cinema per due ore e quaranta guardarsi un un film bello sono assolutamente d'accordo la ragione guarda la ragione proprio stamattina nel video di Dune ho detto io ho aperto il video dicendo è bellissimo Dune però è impegnativo cioè non è il film che ti vai a vedere la domenica pomeriggio perché vuoi rilassarti fatti quattro risate cioè devi anche sapere a cosa vai incontro anche perché immagino questo qui sei tutto stanco vuoi rilassarsi e si siede con questi con questi suoni gutturali però infatti a me la colonna sonata di Dune fa veramente tanto ridere perché ci sono dei momenti in cui ma è bellissima però ci sono questi momenti in cui tutto in silenzio fa tanto sorridere quindi capisco che è una infatti è coraggioso secondo me proporre film come Dune o come Killer Sovereign Moon o altri film di questo tipo poi però accade questo fenomeno strano per cui arriva il periodo Oscar e il 90% dei film candidati dura dalle due ore un quarto alle tre ore sempre se tu guardi sono pochissimi c'è forse la zona di interesse che dura un paio d'ore past lives che durano ore 40 e poi il resto sono tutti di due ore e più sì c'è per me al giorno d'oggi se un film dura un'ora e mezza è per forza un cartone animato per bambini perché non ne vedi più no 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 è come se adesso il cinema l'andare in sala è diventato talmente un lusso a livello di tempo che ci vai se il film vale la pena e generalmente se è lungo ne vale la pena tipo esce Avengers Endgame la fine di un'era deve essere di tre ore e tu dici tre ore è un colosso lo andiamo a vedere e effettivamente una cosa che fa ridere è per Dune per Killer Sovereign un avatar la gente dura troppo però poi quando è uscito Endgame di tre ore tu ti damo subito perché ovviamente quello ti offre un intrattenimento molto più spiccio e ci sta ma soprattutto sai anche un po' a cosa vai incontro assolutamente ma poi è generazionale epocale perché comunque piaccia o non piaccia l'MCU Avengers Endgame che non è un film perfetto è pieno di difetti è un film di intrattenimento è tutto quello che volete tutte le premesse del caso è comunque un film molto importante a livello di cultura pop cioè sì sì assolutamente c'è gente che ha iniziato a guardare quei film che erano bambini e hanno guardato Avengers Endgame che era già un grandicelli e soprattutto ormai possiamo anche dirlo cioè ormai fa parte di un periodo storico che probabilmente non vedremo più come sta andando l'MCU adesso quindi non penso che avremo mai più un equivalente di Endgame non credo anche perché comunque adesso ridendo e scherzando chi aveva cinque anni quando uscì il primo Iron Man lo vide magari in sala che lo portavano i genitori adesso non ha più di venti è capito è un po' questo il senso per cui noi non ce ne accorgiamo ma sono passati quasi vent'anni è abbastanza particolare come cosa sono passati più di 15 anni quindi io sono anche d'accordo con te dopo 15 anni ci può anche stare che magari le cose non siamo in realtà no secondo me non è una questione che il pubblico si stang io sta cosa per quanto secondo me è vero che è calata la qualità esatto indubbiamente esiste come la chiamano sempre la super hero fatigue ovvero che dopo un po' in sto periodo siamo stati veramente bombardati ma è che dopo 15 anni basta cosa devono raccontare è vero però la questione è che secondo me se fossero stati tutti di un certo livello la gente non se ne sarebbe lamentata no è per quello è come no ma d'altronde quello che voglio dire io è dopo 15 anni dopo tipo 11 anni che hanno fatto film che comunque sono piaciuti tanto al pubblico ci può anche stare che inizino a finire le idee io penso che ultimamente hanno fatto a te The Marvels non era piaciuto non mi ricordo un po' inutile non era orribile ma non era neanche bello perché adesso sai che la gente un sacco di gente mi chiede oh Victor ma cosa ne pensi del fatto che The Marvels sta andando da dio su Disney Plus cosa ne pensi è uscito tipo tre mesi fa arriva cioè se io pago un abbonamento e c'è un film che non mi interessava andare in sala che è nuovissimo e arriva cosa faccio e dico no questo no lo guardi paradossalmente potrebbe anche essere un indicatore del fatto che non fosse così interessante perché vuol dire che la maggior parte delle persone non valutavano e valesse la pena andare al cinema però se l'è visto quando è arrivato esatto però molti dicono quindi secondo te anche perché scusami effettivamente il ragionamento la frase del no non vado al cinema aspetto che esca in streaming è una che io dico tantissimo cioè per un sacco di cose effettivamente tu sei molto più specializzato di me quindi tu li vedi quasi tutti io no noi non facciamo proprio la stessa identica cosa io vado a vedere solo la roba che mi interessa solo la roba che mi piace e in effetti mi rendo conto che per un sacco di cose dico per me aspetto che esca in streaming perché la sbatta di andare fino al cinema e chiudere per quelle due tre ore per vedere qualcosa che non mi convince al cento per cento questo è un problema secondo me che è sorto soprattutto dopo la pandemia perché la pandemia ha accelerato in maniera eccessiva un processo che secondo me sarebbe arrivato tra 10-15 anni cioè la quasi contemporaneità tra i film in sala in streaming esatto prima la finestra era di 4-5 a volte anche 6 mesi dipendeva dal film oggi soprattutto con i film delle IP di Disney escono subito su Disney Plus ma non solo anche su Paravan Plus su Prime Video cioè ormai la finestra è ridottissima cioè aspettare un film in streaming significa aspettare un mese e mezzo ormai perché devono cavalcare ancora quello che rimane della campagna promozionale del film sì guarda Disney Plus sta facendo la pubblicità in televisione prossimamente povere creature ma come ma anzi la cosa che a me più stupisce è quando capitano alcuni film che ti dicono quando esce al cinema e nella stessa pubblicità ti dicono già anche quando arriva in streaming ecco quello no perché così ti fa dire ma a questo punto perché poi sai qual è il punto il punto che per me è proprio una questione noi ci stiamo lentamente avviando ad un processo di trasformazione come umanità simile a quella di Wall-E tutti sulle sedioline fluttuanti ma sì perché c'è una pigrizia ormai perché l'idea è però devo uscire andare in sala spendere il tempo e poi magari devo spendere i soldi per la benzina per il biglietto per i popcorn posto che non è che ti venga una chartlingola a forza però e dice invece lo aspetto un mesetto tanto non mi interessa tanto lo vedo in streaming che è un ragionamento che posso anche capire il problema è che le varie major stanno inizialmente lentamente capendo che lo streaming molto semplicemente non è sostenibile a livello di incassi lo streaming non sarà mai come cinema e infatti cosa succede stanno crescendo sempre di più i prezzi costantemente sì fino a che a un certo punto non si tornerà alla pirateria io no perché non mi piace però la gente non tornerà alla pirateria perché adesso se tu vuoi vedere un po' tutto devi spendere parecchi soldi io ho tutte le piattaforme ma grazie è il mio lavoro quindi ci sta però sai cosa io anche le ho tutte quelle principali eppure mi gira il cazzo che succede spessissimo che ho voglia di vedere un film ma un film vecchio magari 10-20 anni fa quindi dici lo cerco o non si trova da nessuna parte io infatti mi ritrovo spesso a noleggiare anch'io perché volevo riguardare il Dune di Lynch c'è solo a noleggio acquisto e gli spendo anche i soldi perché poi anche qui l'altro giorno non c'era l'anatomia di una caduta in streaming in nessun catalogo ma c'era su Prime Video con 4 ore 99 l'ho noleggiato perché io lo volevo vedere in sala ma adesso si sta creando un curiosissimo fenomeno tutti quei film un po' stanno iniziando stanno iniziando a non avere una distribuzione giusta e fai una fatica maledetta per vederli però arrivano quasi subito in streaming e in streaming hanno un successo incredibile io mi ricordo The Last Duel The Last Duel ha incassato veramente una miseria io anche l'ho visto in streaming io l'ho visto al cinema caro adesso va bene tutto però tu l'hai visto ma ci sta è giusto non ero così interessato da andare a vederlo al cinema che la cultura non ha scelto no certo no però ha senso ci sta tu dici non lo voglio andare a vedere al cinema te lo guardi su Disney Plus e su Disney Plus è stato uno dei film più visti dell'anno e lì lo posso capire però lì è interessante perché non è The Marvels è un film che posso già capire che venga poco visto al cinema oggi giorno è comunque un film storico in costume di solito quelli sono molto respingenti quindi ci sta che tu abbia detto ci mancava fosse un musical anche adesso così proprio un colpo diremo qui però però per cui ci sta che tu abbia detto me lo guardo me lo guardo in streaming però è più curioso che un film come questo faccia sembra 16 milioni di visualizzazioni in streaming che sono più o meno quelle che ha avuto la sirenetta che comunque dici sì la sirenetta un film comunque super accessibile per cui anche perché cioè tu compri la sirenetta per far vedere ai tuoi figli spero che non compri la sduel da mettere lì stai zitto e guardati Ridley Scott e la storia forse è meglio fargli vedere la sduel però che poi a me la sirenetta non l'avevi visto quello ti è piaciuto? era ok ci stava senza lode né in farm a chi è piaciuto? a chi non è piaciuto? ok chi l'ha visto scusate? ah ecco hanno risposto quelli che l'hanno visto però non l'hanno visto in tanti però ho capito è un po' poi c'è un meme che mi sta facendo morire da ridere che ogni volta che esce un film che floppa nel weekend mi taggano sempre delle pagine anche grosse che fanno il meme classico di Goku e Vegeta che dico andiamo a combattere da qualche parte in cui non c'è nessuno e poi c'è loro che combattono in questa sala cinematografica con il flop di turno che viene proiettato anche a me la mandano con madame web e ogni volta non riesco a smettere di ridere perché mi arriva sempre in un momento in cui non me l'aspetto e magari stavo leggendo poco prima i dati a box office del film mi arriva il meme e quindi rido però il discorso è che poi anche il box office italiano è strano perché il box office globale è un po' salito un po' sceso non si è capito cioè di base non è salito però solo grazie a specifici film cioè ce ne sono stati quei 3 o 4 che hanno trainato il mercato e poi un altro gruppone di flop giganteschi di grandi blockbuster come che so Transformers oppure Indiana Jones The Flash tutti quelli che hanno buttato in estate e il discorso secondo me è proprio che invece adesso certi film stanno iniziando a macinare contro ogni aspettativa cioè il ragazzo l'airone ha fatto in Italia più di 6 milioni di euro che è tantissimo per un film per un anime innanzitutto ma anche per un film del Ghibli Perfect Days che è un film che sostanzialmente parla di un tizio che fa il lava cessi e non fa nient'altro che lavare i cessi tutto il giorno film bellissimo detto così non sembra ma è veramente bello ha fatto più di 4 milioni di euro che io quando l'ho letto ho detto ma com'è possibile questa cosa Past Lives che comunque anche qui non è proprio un film facilissimo è mezzo parlato in italiano se lo guardate in italiano è mezzo in coreano quindi metà in lingua originale e comunque ha fatto più di 2 milioni di euro e non è un film proprio che è per il grande pubblico quindi non so come mai da noi il box office sta un po' rimontando per cui secondo me proprio in virtù del fatto che almeno in Italia c'è una rimonta del box office magari queste finestre perché io ero uno di quelli che all'inizio diceva io abbassare la finestra che 4 mesi sono troppi adesso con la finestra di un mese e mezzo sono troppo pochi secondo me io non pensavo che sarebbe stata una cosa così affossante cioè per alcuni film secondo me li affossa proprio perché quello che dicevi prima cosa me lo guardo a fare in sales tra un mese è già su manca pagamento sì ma perché magari finché decidi se andare o meno a vederlo dici vabbè ormai fra una settimana esce tanto vale che me lo vedo a casa grazie a tutti